pronostici della sesta giornata di serie a ora come sempre ve li dico ma prima di farlo iscrivetevi bravi che l'avete fatto vi ho visti lasciate tanti like scrivete qui sotto anche il vostro grande commento con la previsione sui dieci match e scaricate anche one football che vi aggiorna sul calcio e che vi permette anche di fare dei pronostici su ogni partita con tanti altri appassionati quindi partiamo napoli spezia uno fisso inter toro uno fisso samp milan ammarassi vi dico x la juve ci pareggia la lazio anche e magari pure il milan atalanta cremonese 1 bologna fiorentina x lence monza ve la butto lì x2 sassuolo udinese x2 lazio verona 1 juve salernitana 1 ed poliroma ma aspetta e voglio una risposta 2